Ci siamo! Tutto pronto e partiti i cavalli della terza corsa del pomeriggio. Di dentro Absolute Valley coglie una buona partenza dall'esterno anche atto finale che poi si porta in vantaggio sul finire del primo tratto di gara. I cavalli devono ancora affrontare la prima parte della prima curva di sinistra. Terza posizione per il favorito Tutto Solo d'Arborea, la quarta è per Winning Attitude, dalle cui spalle galoppa zeniosa. Poi Earth of the Sea con ancora Soffio del Vento a completare il quadro dei partecipanti insieme a Cianguro Basque. La prima parte di gara è scivolata via così con una bella andatura da parte di atto finale che non si è risparmiato certamente percorrendo il primo tratto in maniera molto veloce, spendendo tanto per essere lì. Sulla retta opposta ci sono almeno sette lunghezze di vantaggio sul primo degli inseguitori che in questo momento è Absolute Value. In terza posizione con la giuba bianca Tutto Solo d'Arborea, in quarta invece Winning Attitude ed ancora zeniosa, alle cui spalle galoppa Earth of the Sea, Cianguro Basque e Soffio del Vento. Gruppo sfilacciato a causa della forte andatura imbastita da atto finale che è ancora in netto vantaggio. Sulla tre quarti della retta opposta, ancora in seconda Absolute Value con Tutto Solo d'Arborea che ne rileva la posizione. Zeniosa, Winning Attitude, Cianguro Basque e poi un po' più discosti troviamo Soffio del Vento e Earth of the Sea che è scivolato in coda. Prima parte dell'ultima curva, sempre atto finale. Adesso sono cinque le lunghezze di vantaggio con Absolute Value che si è incaricata di fare da elastico, Tutto Solo d'Arborea, Winning Attitude e Cianguro Basque che si avvicinano in terza, quarta e quinta corsia. Poi, alle spalle di questi, Zeniosa e ancora Soffio del Vento e Earth of the Sea. Siamo in retta d'arrivo, atto finale sotto frusta. Si avvicina dall'interno Absolute Value, per corsie esterne ci vanno Cianguro Basque, Winning Attitude accompagnato anche Soffio del Vento. Zeniosa sceglie una corsia più centrale a 450 al traguardo, ancora atto finale davanti. All'esterno si presenta Cianguro Basque che piano piano sta recuperando qualcosa. All'interno si è piantata Absolute Valley, ci prova tutto Solo d'Arborea, anche Winning Attitude è lontano. Ma a questo punto della corsa, atto finale, ha debellato tutti gli attacchi. Ci prova Cianguro Basque, all'interno c'è anche Geniosa, con atto finale che sta cercando di concretizzare l'impresa del cost to cost. Atto finale davanti nei confronti di Cianguro Basque. Atto finale! Che la porta fino in fondo, compiendo una piccola impresa perché aveva speso tantissimo per essere davanti. Ma gli altri non sono riusciti a recuperare. Allora il cost to cost, con la perfetta interpretazione di Marcellino Belli in sella e come trainer. I colori sono quelli di Massimo D'Addio. 9 al primo posto per il 7 anni da E. Paulette che conquista così l'affermazione numero 9. 9 in carriera, secondo Cianguro Basque e poi per il terzo, se non ho visto male, tutto solo D'Arborea. Ma qui c'è stata una piccola sorpresa perché atto finale pagava qui sul campo 28. Vince il numero 9 nei confronti di Cianguro che si conferma comunque solido performer, sempre molto regolare. Andiamo un po' per il terzo posto. 9-2 e poi 3 a completare il trittico. Tutto solo D'Arborea al terzo posto. E tutto per la terza. Grazie. 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 Grazie.